Gli eletti sono persone attiviste, l'attivista sociale, Peppino Impastato, Falcone Borsellino, padre Alex Zanotelli, Martin Luther King, il Mahatma Gandhi, San Francesco d'Assisi, le Agende Rosse, Salvatore Borsellino che strilla come un forsennato, giustizia. Questi sono gli eletti, persone che fanno del bene e non si interessano solo della loro vita, si interessano del bene di tutta l'umanità, hanno una prospettiva solidaria.